Ciao e benvenuto a questo nostro nuovo appuntamento settimanale. Oggi ti parlo di uno dei mali peggiori per chi pratica sport a livello amatoriale, ovvero la routine. Sì, perché per il professionista o comunque il semi professionista, per intenderci quelle persone che si allenano praticamente tutti i giorni, magari anche due volte al giorno, e hanno fatto dello sport una professione o comunque una seconda attività, il discorso è diverso. In questo caso ci sono in mezzo degli stimoli, a volte anche economici o comunque, che ne so, di classifica, che ti obbligano a organizzare in modo schematico i tuoi allenamenti settimana dopo settimana, mese dopo mese, per arrivare pronti alle gare che contano. Ma parliamo di eccezioni, perché è vero che sono tanti i professionisti che praticano sport, ma sono sicuramente molti, ma molti di più, quelli che fanno sport per passione, come me, per sentirsi meglio o per semplicemente staccare la spina e magari rilassarsi. Ecco, nell'articolo, nel video articolo di oggi voglio parlarti proprio di questo. L'argomento che trattiamo riguarda proprio gli amatori, magari come te. Davvero, la noia e la routine sono uno dei mali più diffusi tra chi pratica attività fisica. Quella cosa che certe volte ti fa dire, oggi non ho proprio voglia di allenarmi, sono mesi che mi alleno e oggi proprio non sono motivato, mi riposo, non mi alleno. Eh sì, certe volte effettivamente capita, lo so perfettamente che è successo anche a te e, ad essere sincero, ogni tanto succede anche a me, capita anche a me, nonostante io dello sport, dell'attività fisica abbia fatto una professione, ma siamo umani e a volte capita, ma devi sapere che esiste un modo per evitare o comunque per far sì che questo accada il meno volte possibile, quindi pochissime volte e oggi ti spiego come dovrai fare. Prima di tutto, pensa in grande. Se il tuo obiettivo è quello di dimagrire e perdere 10 chili, il tuo obiettivo in testa deve essere quello di perdere 12 chili, altrimenti rischi di fermarti, infatti una volta raggiunto l'obiettivo poi ti accontenti, sei felice, pagato per il risultato raggiunto e così molli tutto, comunque inizi ad allenarti sempre meno, tanto ormai è fatta. No, invece la parte più difficile arriva proprio adesso e mentalmente devi essere avanti. Seconda cosa, ragiona a breve termine, quindi allo stesso tempo se il tuo obiettivo è perdere 10 chili, anzi no, abbiamo detto 12 chili, non fissarti solo ed esclusivamente sulla linea del traguardo, altrimenti rischi di sminuire i micro obiettivi che raggiungi ogni settimana e ogni mese. Per arrivare al traguardo comunque sappi che ogni singolo passo che fai in avanti è un enorme successo, vuol dire che sei nella direzione giusta, quindi il tuo prossimo obiettivo deve essere quello di perdere un chilogrammo, il secondo obiettivo sarà quello di perdere due chilogrammi e così fino alla fine, fino alla linea del traguardo. Punto 3, cerca di variare, qualsiasi sia il tuo obiettivo non esiste mai un'unica strada da percorrere, anche se quella che hai intrapreso fino ad oggi ti ha portato ottimi risultati, anzi variare i tuoi allenamenti in modo ciclico serve a destabilizzare il tuo organismo, i tuoi muscoli che ormai probabilmente ci sono abituati, diciamo ci sono fossilizzati su quel tipo di allenamento, senza dimenticare l'aspetto mentale, dopo mesi che fai un allenamento è facile perdere lo stimolo perché ancora prima di iniziare sai già esattamente quello che ti aspetta, invece un nuovo allenamento significa nuovi stimoli, nuove cose da imparare, ti rimetti in gioco, è come se ti stessi dando un nuovo obiettivo. Punto 4, usa la tua immaginazione, per la tua mente devi sapere che non c'è differenza tra un'esperienza realmente vissuta e un'esperienza immaginata, prima di tutto devi avere ben chiaro nella tua testa quello che vuoi, quindi il tuo obiettivo finale, come sei fisicamente con quei 10 kg in meno, come ti sentiresti guardando a te lo specchio, che sensazione provi con quei 10 kg in meno, come ti senti, tutte emozioni piacevoli che proprio in quei giorni diciamo di no oggi non ho voglia di allenarmi, devi cercare di provare, di farti entrare nella testa per trovare l'energia giusta per iniziare ad allenarti. Punto 5, ogni tanto stacca, non essere troppo severo con te stesso, una forte motivazione ti spinge ad andare avanti, ad allenarti con intensità per raggiungere il tuo obiettivo, ma a volte diciamo che ti annebbia la vista, ti impedisce di vedere la realtà e a volte ti impedisce di prendere le decisioni giuste. Le cose possono anche andare in modo diverso da quello che avevi immaginato, questo mese magari volevi perdere 2 kg e invece hai perso solo 7 etti, ok, nessun problema, non buttarti giù, si tratta solo di capire perché e trovare la strada giusta. Se questa settimana ti eri prefissato di allenarti ad esempio 3 volte, ma per problemi di lavoro inaspettati, sei riuscito ad allenarti solo 2 volte, va bene così, può capitare e non è sicuramente un allenamento in meno che ti impedirà di raggiungere il tuo obiettivo. Le mie considerazioni di oggi forse potranno sembrarti banali, ma lo vedo tutti i giorni quando alleno i miei clienti come personal trainer e ti assicuro che funziona esattamente così. Succede a tutti, prima o poi di scontrarsi con la routine, capita nella vita e quindi anche nello sport. Questo è un modo semplice ma estremamente efficace che può fare la differenza tra chi raggiunge il proprio obiettivo e chi invece dopo poco tempo molla tutto e non raggiunge l'obiettivo. Per oggi è tutto, ci sentiamo presto, buon allenamento, ciao!